D'Annunzio in Italia e nel mondo ha 80 anni dalla morte. Questo è il tema del 45esimo convegno internazionale di studi d'Annunziani. Professor Marianacci, D'Annunzio rappresenta l'emblema della nostra regione. Voi ogni anno organizzate grandi eventi, ma quest'anno all'interno di questo evento ci sarà anche la presentazione di un libro importante in 20 lingue su D'Annunzio. Credo che non ci sia poeta che sia venuto dopo di lui, che non si sia dovuto confrontare con la poesia di D'Annunzio, perché D'Annunzio ha in qualche modo rivoluzionato tutto il fare poetico e soprattutto il linguaggio poetico, ripescando da tutta la tradizione. Giuseppe Ungaretti nel trigesimo della morte, cioè un mese dopo, il primo marzo del 1938, fece una conferenza all'Università di San Paolo, dove allora insegnava e per dimostrare l'importanza di D'Annunzio rifece la storia della letteratura italiana da Dante agli anni 30 del secolo scorso. Quest'anno, in occasione dell'ottantesimo, abbiamo deciso di preparare un'antologia, che è poi questa, i pastori di D'Annunzio nelle lingue del mondo. I pastori sono in qualche modo la poesia più abruzzese di Gabriele D'Annunzio, insieme poi alla pioggia nel Pineto, è la poesia in assoluto più conosciuta in Italia, ma anche all'estero. Questa antologia, i pastori di D'Annunzio nelle lingue del mondo, la nostra idea sarebbe quella di continuare questo progetto, e quindi un work in progress, e ogni volta, infatti già ne sono arrivate altre di traduzione, che non abbiamo fatto in tempo ad inserire nell'antologia, e fare proprio D'Annunzio in tutte le lingue del mondo, se questo sarà possibile. Voglio solo ricordare che le date del convegno sono 25-27 di ottobre, apriremo il 25 mattina alle ore 9.